Si sente spesso parlare di obbedienza cieca, mai di obbedienza sorda. Sapete perché? Per spiegarvelo devo ricorrere all'etimologia, la quale qualche volta può dare una mano d'aiuto anche all'ascetica. Obedire deriva dal latino ob audire, che significa ascoltare stando di fronte. Quando ho scoperto quest'origine del vocabolo, anch'io mi sono progressivamente liberato dal falso concetto di obbedienza, intesa come passivo azzeramento della mia volontà, e ho capito che essa non ha alcuna rassomiglianza, neppure alla lontana col supino atteggiamento dei rinunciatari. Chi obbedisce non annulla la sua libertà, ma la esalta, non mortifica i suoi talenti, ma li traffica nella logica della domanda e dell'offerta. Non si avvilisce all'umiliante ruolo dell'automa, ma mette in moto i meccanismi più profondi dell'ascolto e del dialogo. C'è una splendida frase che fino a qualche tempo fa si pensava fosse un ritrovato degli anni della contestazione. Obbedire in piedi. Sembra una frase sospetta, da prendere comunque con le molle, invece la scoperta dell'autentica natura dell'obbedienza, la cui dinamica suppone uno che parli e l'altro che risponda. Uno che faccia la proposta con rispetto e l'altro che vi aderisca con amore. Uno che additi un progetto senza ombra di violenza e l'altro che con gioia ne interiorizzi l'indicazione. In effetti si può obbedire solo stando in piedi. In ginocchio si soggiace, non si obbedisce, si soccombe, non si ama, ci si rassegna, non si collabora. Teresa, per esempio, che è costretta a dire sì a tutte le voglie del marito e non può uscire mai di casa perché lui è geloso, e la sera quando torna umbriaco e i figli piangono, lei si prende un sacco di botte senza reagire. È una donna repressa, non è una donna obbediente. Il Signore un giorno certamente la compenserà, ma non per la sua virtù, bensì per i patimenti sofferti. L'obbedienza, insomma, non è inghiottire un soppruso, ma è fare un'esperienza di libertà. Non è silenzio rassegnato di fronte alle vessazioni, ma è accoglimento gaudioso di un piano superiore, non è il gesto di missionario di chi rimane solo coi suoi rimpianti, ma una risposta d'amore che richiede, peraltro, in chi fa la domanda, signorilità più che signoria. Chi obbedisce non smette di volere, ma si identifica a tal punto con la persona a cui vuol bene, che fa combaciare con la sua la propria volontà. Ecco l'analisi logica e grammaticale dell'obbedienza di Maria. Questa splendida creatura non si è lasciata espropriare della sua libertà, neppure dal Creatore, ma dicendo sì, si è abbandonata a lui liberamente ed è entrata nell'orbita della storia della salvezza, con tale coscienza responsabile che l'angelo Gabriele ha fatto ritorno in cielo recando al Signore un annuncio non meno gioioso di quello che aveva portato sulla terra nel viaggio di andata. Forse non sarebbe sbagliato intitolare il primo capitolo di Luca come l'annuncio dell'angelo a Yahweh più che l'annuncio dell'angelo a Maria. Santa Maria, donna obbediente, tu che hai avuto la grazia di camminare al cospetto di Dio, fa che anche noi come te possiamo essere capaci di cercare il suo voluto. Aiutaci a capire che solo nella sua volontà possiamo trovare la pace e anche quando Egli ci provoca a saltare nel buio per poterlo raggiungere, liberaci dalle vertigini del vuoto e donaci la certezza che chi obbedisce al Signore non si schianta al suolo come in un pericoloso spettacolo senza rete ma cade sempre nelle sue braccia. Santa Maria, donna obbediente, tu sei bene che il volto di Dio finché cammineremo quaggiù possiamo solo trovarlo nelle numerose mediazioni dei volti umani e che le sue parole ci giungono solo nei riverberi poveri dei nostri vocabolari terreni. Donaci perciò gli occhi della fede perché la nostra obbedienza si storicizzi nel quotidiano dialogando con gli interlocutori effimeri che Egli ha scelto come segno della tua sempiterna volontà. Ma preservaci anche dagli appagamenti facili e dalle acquiescenze comode sui gradini intermedi che ci impediscono di risalire fino a te. Non è raro infatti che gli istinti idolatrici non ancora spenti nel nostro cuore ci facciano scambiare per obbedienza evangelica ciò che è solo cortigianeria e per raffinata virtù ciò che è solo squallido torna conto. Santa Maria, donna obbediente, tu che per salvare la vita di tuo figlio hai eluso gli ordini dei tiranni e fuggendo in Egitto sei divenuta per noi l'icona della resistenza passiva e della disobbedienza civile, donaci la fierezza dell'obiezione ogni volta che la scienza ci suggerisce che si deve obbedire a Dio piuttosto che agli uomini e perciò in questo discernimento difficile non ci manchi la tua ispirazione. Permettici che almeno allora possiamo invocarti così. Santa Maria, donna disobbediente, prega per noi.